Ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi faremo uno scherzo a una mia amica questa qui è Giulia la mia amica che voi forse non conoscete ma comunque facciamo lo scherzo che abbiamo fatto a Rachele e dove? aspetta e gli scriviamo ciao ti devo dire una cosa dai ultimo accesso ok la lette aspetta prendiamo allora non so se fidarmi non so se fidarmi va bene la stessa cosa di Rachele che ha scritto poi cosa abbiamo vediamo che sta scrivendo vediamo 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 e ne ho che risponde lt, qua sembra che è l'ultimo accesso ma non so perché sembra l'ultimo accesso ho fatto di nuovo la rocciata l'ultimo accesso 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 l'ultimo accesso